Minacce per sei mesi, da quando si erano lasciati. Poi ieri sera ha tentato di investirla e quando hanno accompagnato la donna in ospedale, l'uomo l'ha seguita fino al nosocomio e nella sala d'attesa l'ha aggredita con un calcio. È accaduto a Giuliano in Campania, la donna aveva lasciato il 52enne proprio per le violenze subite, ma l'uomo non ha mai smesso di perseguitarla. Quando i carabinieri sono arrivati in ospedale hanno trovato due uomini che stavano litigando. Erano lo stalker e il fratello della vittima, che era intervenuto dopo l'ennesima aggressione, con calci e strattoni. La donna era svenuta, da cui l'intervento del fratello, tra le urla dei tanti presenti. I militari dell'arma hanno bloccato il 52enne e, visti i suoi precedenti per detenzione di armi, hanno perquisito la sua abitazione. Hanno inoltre rinvenuto 28 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi. Denunciato anche per detenzione di droga ai fini di spaccio, è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.